Trascorso il Natale, ma non finite le feste! Questa è arte per te, arte per te Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te. Eh sì, è trascorso il Natale, ma le feste non sono ancora finite. Ancora ci incontriamo con gli amici, ancora scambiamo qualche dono. Può darsi che qualcuno ancora abbia bisogno di un'idea per impacchettare un pensierino. Anche un semplice dolcino, visto che si sta avvicinando prepotentemente l'epifania. E allora eccomi un video in cui creare una bella scatola, un po' gioiello, per confezionare o un pensiero o qualche dolcetto. Io l'ho ideata come scatola portadolcetti, possibilmente per l'epifania. Ma voi declinatela con i mille colori della vostra creatività e delle vostre feste. Spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a creare la nostra scatolina portadolcetti. Ed ecco l'occorrente per creare la nostra scatolina tonda. Innanzitutto una colla. Io qua la mitica attacca tutto, ma andrebbe bene anche una colla al nastro. Non so quale userò a dire il vero. Poi un cutter, dei pennelli. Io ne ho qui un paio siliconici, non so se li userò. Più uno invece normale, a spatolina. È un pennello che da una parte ha anche il bulino e potrebbe essermi utile. Un compasso, un acrilico nero, una glitter paste nera. Vi ho insegnato qui dove c'è lei col pallino come fare le paste glitterate. E poi due carte che diano alla mia scatola un effetto vintage un po' anni 50. Ho preso questa a scacchi bianca e nera per il corpo inferiore della scatola e questa gialla per il tappo. In più un cartoncino per mettere la ricetta, perché la mia sarà una scatola portadolcetti che voglio realizzare in stile appunto natalizio ma non specificatamente natalizio in modo che possa resistere un po' di più anche in periodi non di festa piena di dolcetti fatti in casa. Userò anche un adesivo che riprenda i loghi della cucina My Kitchen, My Rules e quindi proprio per identificare la mia passione per l'home made anche in cucina. È un tutorial che unisce appunto le mie due passioni. Queste card potete scaricarvele tranquillamente da internet. Il materiale che uso io è tutto materiale bobbanni perché io sto facendo un tutorial per loro per il post sul loro blog. Però naturalmente una card ve la potete scrivere anche voi. Adesso comincia naturalmente le carte una carta a scacchi e una carta a righe. Vedete righe giallo chiaro e giallo scuro e questa a scacchi crema e neri sono facilissime da trovare in commercio. Allora io faccio la mia scatolina aprendo il compasso a raggio 6 cm quindi segno tre circonferenze l'ho già fatto sulla carta gialla. Dopodiché vado a tagliare queste mie circonferenze. Sistemiamo adesso la parte superiore della scatolina il tappo. Alla circonferenza dobbiamo aggiungere una spondina laterale che serva per far incastrare il nostro tappo. La spondina deve essere alta 3 cm e deve avere poi una braghetta superiore di 2,5 cm che taglieremo a modi zig zag per farla aderire sulla parte inferiore della circonferenza. Guardate qui è creare una sorta di fascetta che una volta tagliata da una parte e dall'altra mi consenta di piegare la braghetta interna questa andrà via e di far aderire questa parte nella parte del cerchio in modo da seguire poi tutta la circonferenza. Capito il concetto? E poi appiccicherò questo qua su facendo andare ben bene tutta la circonferenza. Ok, tagliamo adesso le sfonde laterali della scatoletta. Io quindi taglierò i lati da 4 scacchi in modo che comunque rimanga una bella quantità esterna in bella mostra questa è facilissima per prendere le misure perché ovviamente essendo una carta rigata semplicemente taglio ed è fatta e 4,8 ricordandoci sempre che uno scacchiè che è una striscia dovrà diventare una sorta di braghetta per attaccarsi con la base inferiore del fondo quindi con la base della scatola. A questo punto ho tutti i pezzi voglio decorare però la parte sommitale della scatolina e lo farò con la tecnica della brush and bravery e con la glitter past e il pennellino si disegna il punto centrale che è questo e poi a croce si fanno dei petali quindi io farò uno due tre e quattro senza andare troppo nel merito della definizione poi sopra di questi se ne faranno altri che dovranno essere più larghi e prenderanno più spazio quindi uno due tre quattro e cinque quindi l'ultimo giro uno due tre quattro cinque e sei a questo punto prendo la mia glitter past dopo aver sistemato il disegno come meglio credo e secondo la tecnica della brush and bravery ricomincio a posizionare la mia glitter past bella copiosa sui margini del mio disegno solo sui margini e dopo aver posizionato sui margini schiaccio questi bordi che sono sono così ricchi di materiale e spalmo semplicemente con le setole del pennello verso l'interno in modo da creare questo effetto che è una sorta di effetto pizzo trasparente dove alla materia si lasciano zone invece totalmente prive di materia quindi si poggia la materia su tutto e quindi poi si schiaccia armonicamente facendo scendere il colore e lasciando alcune zone più sguarnite così su tutto quindi la tecnica della brush and bravery è una tecnica rubata alla pasticceria perché è una tecnica di pasticceria dove si dipinge sulle torte in pasta di zucchero con la ghiaccia reale noi sostituiamo la ghiaccia reale con il nostro colore glitter che è un colore che ha comunque una massa molto simile alla ghiaccia reale e facciamo diventare questa tecnica decorativa una tecnica pittorica del resto mi sembrava la tecnica ideale perché essendo comunque un qualcosa dedicato alla pasticceria questo scatolino mi piaceva legare la tecnica artistica che di solito è usata per decorare biscotti e torte alla tecnica pittorica decorativa con cui scegliere di decorare questo manufatto prendo la parte inferiore prendo il compasso e apro puntando sempre al centro un inezia più piccolo di quanto avevamo puntato prima proprio poco segno un secondo cerchio leggermente più piccolo voi mi direte perché? perché il tappo deve essere poco poco più grande del resto della scatola se no non chiude quindi leggermente piano piano segno questa seconda circonferenza e con le forbici vado a ritagliare rifilare nuovamente così giro la mia scatolina prendo il mio corpo della scatolina su ognuna delle fascette metto un infinitesimale punto di colla quindi piano piano attacco su tutto il fondo la mia scatolina per coprire poi tutta questa magagna prendiamo il tappino che avevamo rifilato prima e inseriamolo all'interno bello pulito l'interno del nostro scatolino io voglio fare anche la controparete del tappo con la carta a scacchi come ho fatto questa riga in fondo voglio farla a scacchi sopra quindi vabbè potrei prendere la la misura col compasso ma faccio prima così ricavo un cerchio leggermente più piccolo di questo dalla cartina a scacchi ok una volta che la parte sovrastante è totalmente asciutta metto la colla su tutto il bordo e piano piano aggancio fatto l'esterno un bel bordo di colla su tutto e attacchiamo anche la parte interna a coprire tutte le braghettine in modo che la scatola venga del tutto rifinita e voilà già così la nostra scatolina è davvero un amore ma noi non siamo tipi da accontentarci sinceramente non mi piace il taglio a vivo che si vede qua nella parte inferiore non mi disturba nella parte superiore non mi piace tanto e allora sapete cosa faccio lascio asciugare leggermente quindi prendo la glitter past e darò tutto movimento a volantino tutto attorno al tappo prendo la glitter past col pennello e non faccio altro che fare così tac dando questi colpi di pennello a spessore rifinisco anche il bordino laterale arrivati a questo punto lasciamo asciugare perfettamente il tutto quindi mettiamo in occhio i biscottini all'interno della scatolina prenderò una velina nera che stropiccerò leggermente andrò a posare la velina all'interno della scatola così posizionerò i miei dolcetti che possano essere cioccolatini fatti in casa insomma quello che vogliamo io al momento non metterò nulla per ovvie ragioni chiuderò il fagottino spisserò il tutto con l'adesivo che vi ho fatto vedere prima quindi scriverò la ricetta dietro il cartoncino che poggerò all'interno in modo tale che chi prenderà la scatolina abbia prima la ricetta di cosa c'è dentro la scatola poi possa aprire la scatolina ben confezionata che poi una volta chiusa risulterà essere veramente veramente adorabile spero di avervi dato una mano nella realizzazione dei vostri pensierini di Natale e noi ci vediamo dopo ciao 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 Visto che è facile fare una scatola tonda, è davvero davvero facile E visto che è bella la tecnica del brush and brotherly È una tecnica rubata alla pasticceria e che è facilissima da fare Anche se non sapete dipingere, questa risulta sempre Io di solito la faccio sulla ghiaccia con le torte di zucchero Questa volta l'ho voluta fare con la pasta glitterata sul cartoncino Ed è venuta bellissima lo stesso Se questo video vi è piaciuto glitteratemi un bel pollice in su E confezionatevelo in una bella scatola tonda Ma soprattutto condividete questo video sulle vostre pagine Facebook In modo che Arte per te rimanga alta nelle visualizzazioni Voi non lo sapete ma da subito prima del Natale sta scendendo in una parabola discendente vertiginosa YouTube mi manda le statistiche e in questo momento Arte per te è in questa posizione Se vorrete fatemi risalire in modo che la montagna russa del nostro percorso possa continuare Io vi ringrazio tutti invece per essere stati sempre con me Per accompagnarmi in questo mio percorso attraverso le festività E soprattutto per essere sempre così gentili e gioiosi nei miei confronti Spero di regalarvi ogni volta che mi affaccio sui vostri schermi qualche attimo di spensieratezza e di divagazione Soprattutto di serenità Io lo faccio veramente con tutto il cuore e con grande grande divertimento E spero che dall'altra parte tutto questo si senta Me lo auguro veramente tanto Così come con tutto il mio affetto mi mando un enorme bacio E vi do appuntamento sempre qua per il prossimo video Buone feste, continuate a divertirvi, a fare bagordi E noi ci rivediamo sempre qua la prossima volta appunto Da Ombretta e da Arte per te è tutto Arrivederci e buone feste!